In questo video impariamo come preparare file di disegno per poter utilizzare un plotter da taglio laser, un plotter da taglio a lama o un plotter da taglio a filo a caldo. Tutte e tre queste macchine lavorano materiali in lastra e necessitano della preliminare elaborazione di file di disegno bidimensionali. Dobbiamo sapere che questo tipo di attrezzature utilizza come unità di misura al millimetro e quindi interpreta tutte le misure dei nostri disegni in millimetri. Le geometrie che vogliamo tagliare devono per questo essere disegnate con le loro misure alla scala del modello e in unità di misura millimetri. Nella maggior parte dei casi i file di disegno per l'utilizzo di questi tre tipi di attrezzature CNC hanno impostazioni simili. Per prima cosa dobbiamo limitare l'area nella quale vengono disegnati i pezzi da far tagliare alla macchina. A questo scopo è utile creare un rettangolo delle dimensioni del piano della macchina che si vuole utilizzare. Questa prima accortezza potrebbe non bastare, infatti se la lastra di materiale da tagliare ha dimensioni minori rispetto al piano della macchina, la dimensione massima entro la quale posizionare le geometrie da tagliare è quella del materiale. In questo caso è opportuno aggiungere all'interno del primo rettangolo corrispondente al piano macchina un rettangolo con le dimensioni della lastra del materiale. Entrambi questi rettangoli devono essere disegnati su un layer diverso da quello utilizzato per i pezzi da tagliare o incidere nel caso del solo plotter laser. I pezzi possono essere disposti liberamente all'interno del rettangolo corrispondente alle dimensioni del materiale lasciando una distanza dal bordo di circa 10 mm. Per quanto riguarda invece la distanza relativa fra i diversi pezzi è buona norma lasciare circa 5 mm. Questa distanza fra le geometrie disegnate nel caso del laser evita sbaffi scuri dovuti alla vicinanza fra le bruciature. Nel caso del taglio a lama evita possibili strappi e nel caso del taglio con filo a caldo deformazioni del materiale. Queste macchine tagliano tutte le entità di disegno all'interno del rettangolo e per questa ragione se le geometrie presentano linee sovrapposte la macchina passa sopra più volte allungando i tempi di lavorazione e quindi aumentando i costi. Passare più volte su un taglio già effettuato comporta inoltre gli stessi problemi che abbiamo visto nel caso di distanze ravvicinate tra i pezzi. Normalmente i programmi di disegno CAD dispongono di comandi per verificare che non vi siano linee sovrapposte. Per esempio nel caso si utilizzi AutoCAD prima del salvataggio è opportuno lanciare il comando Overkill che elimina automaticamente tutte le linee sovrapposte all'interno della finestra di selezione. Dobbiamo sapere che il più delle volte il taglio non è gestito direttamente dal programma di disegno ma il file viene importato in un programma di gestione specifico per ciascuna macchina. Generalmente questi programmi possono importare file in formato DXF. Può succedere che in fase di importazione dei file i software di gestione macchina non interpretino correttamente alcune entità di disegno complesse come gruppi, regioni o spline che quindi è meglio non utilizzare o trasformare in entità più semplici quali ad esempio le polilinee. Vediamo ora alcune caratteristiche specifiche dei plotter laser. Con questa macchina, gestendo i parametri di potenza e velocità, oltre al taglio è possibile anche effettuare l'incisione del materiale. In questo caso il raggio laser non attraversa tutto lo spessore della lastra. Nel programma di gestione macchina i diversi parametri di taglio sono normalmente assegnati per layer o colore. Se nei pezzi da realizzare sono necessarie dell'incisione oltre ai tagli, le stesse andranno quindi disegnate su layer o con colori differenti da quelli usati per il taglio. Con il plotter laser è possibile tagliare pezzi estremamente dettagliati e di dimensioni ridotte, a patto che si sceglie il materiale più idoneo. Per esempio, su cartoncini da 360 grammi su metro quadro, il cui spessore equivale a circa mezzo millimetro, la distanza minima tra un taglio e il successivo può essere ridotta fino a 0,7 mm per realizzare elementi molto sottili, come serramenti, ringhiere o elementi reticolari. Questo valore limite va sempre rapportato allo spessore del materiale scelto e incrementato nel caso di cartoni di maggiore spessore o poco resistenti. Con questo tipo di cartoni, lavorazioni molto fini rischiano di produrre elementi troppo fragili e inutilizzabili nella costruzione del modello. Bisogna considerare che i laser lavorano con un flusso d'aria per l'aspirazione dei fumi e nel caso di elementi molto piccoli, questi rischiano di spostarsi. Per ovviare a questo problema è consigliabile non chiudere completamente il perimetro di taglio, in modo che la forma resti attaccata alla lastra e si possa successivamente separare con un taglio manuale. Per la medesima ragione, nel caso si debbano tagliare elementi la cui geometria presenti dei fori interni, per esempio delle facciate con delle forature per le finestre, è utile differenziare il perimetro dai fori, ponendoli su un layer differente o assegnando loro colori diversi. In questo modo l'operatore sarà in grado di definire l'ordine di taglio in modo da effettuare prima i tagli interni e successivamente i contorni, evitando eventuali spostamenti o deformazioni del pezzo. Vediamo ora alcune caratteristiche specifiche del plotter a lama. Questa macchina è paragonabile ad un taglierino pilotato, quindi la lama esercita un'azione meccanica sul materiale da tagliare che consente un grado di dettaglio minore rispetto al laser. Per questa ragione, indipendentemente dal materiale scelto e dal suo spessore, la distanza minima tra un taglio e il successivo può essere ridotta a non meno di 1,5 mm. Sempre a causa dell'azione meccanica dello strumento, anche per il plotter a lama come per il plotter laser, il taglio di elementi la cui geometria presenti un perimetro e dei buchi interni, come facciate con buchi delle finestre, è utile differenziare il perimetro dai buchi, ponendoli su layer differenti o assegnando loro colori diversi. Anche il taglio a lama è in grado di realizzare incisioni, dette mezzi tagli, ma solitamente questa lavorazione nel mondo di modelli architettonici non viene utilizzata, in quanto l'incisione a lama è poco visibile e spesso finisce per deteriorare il materiale lavorato. Vediamo ora una caratteristica specifica del plotter a filo a caldo. Per realizzare elementi precisi è necessario che nel disegno tutte le geometrie da tagliare risultino chiuse. Se invece alcune figure sono aperte, il programma di gestione macchina spesso elabora un percorso che prevede di ripercorrere alcune linee già tagliate, compromettendo la precisione e la qualità estetica del pezzo.